Non c'è corrispondenza tra il DNA dei signori Celentano e la ragazza sudamericana. Non è Angela, la giovane donna a cui era stato prelevato il materiale genetico all'indomani della segnalazione arrivata dall'America. Angela Celentano è scomparsa nel 1996 sul monte Faito, nel comune di Vico e Quense. Da allora papà Catello e mamma Maria non hanno mai smesso di cercarla. E continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa, dichiarano i coniugi Celentano, che non smettono di sperare di poter riabbracciare Angela. Grazie a tutti.